Urus è il game changer per Lamborghini e questo è ancora più vero da un punto di vista commerciale. Con la Urus stiamo aggiungendo un nuovo modello al nostro portfoglio e stiamo entrando in un segmento completamente nuovo. Questo darà l'opportunità a noi i nostri dealer di allargare la customer base e di raddoppiare i volumi in maniera stabile nei prossimi anni. La Urus sarà sicuramente un prodotto molto apprezzato dai nostri attuali clienti in quanto incarna perfettamente il DNA della Lamborghini. Siamo altresì convinti che il Super SUV in ragione delle infinite opportunità che offre partendo da un utilizzo quotidiano anche coinvolgendo le famiglie fino a un utilizzo estremo in pista e off-road sarà in grado di attrarre un pubblico che fino ad oggi non aveva preso in considerazione il marchio Lamborghini e che troverà nella Urus il proprio prodotto ideale. Sicuramente fra i maggiori mercati rimarranno quei paesi dove oggi abbiamo il più alto numero di vendite. Gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, UK, Germania e Australia. Ma sicuramente ci aspettiamo una crescita più che doppia per quei mercati in cui il SUV ha un grossissimo potenziale come Cina, Russia e Middle East.